E' stata davvero intensa l'attività di pulizia per gli operatori di Chimambiente Amium nel post Ferragosto. Numerosi gli interventi effettuati dagli operatori della municipalizzata sulle spiagge comunali e in periferia. Anche il lungomare è stato oggetto di igienizzazione con una lancia idropulitrice. Purtroppo si sono registrati cassonetti pieni e rifiuti abbandonati ovunque. La situazione riscontrata nelle ore successive al lungo weekend ferragostano ha richiesto uno sforzo aggiuntivo agli operatori che hanno operato in collaborazione con la cooperativa Kratos per ripristinare le aree. Per garantire igiene e decoro nei giorni di maggiore afflusso turistico è stata messa in campo un'azione di coordinamento con la polizia locale fortemente voluta dal sindaco Rinaldo Melucci. Le operazioni proseguiranno anche nelle prossime ore. Su impulso del presidente di Chimambiente Amium, Giampiero Mancarelli, l'assessore Paolo Castronovi sta seguendo da vicino ogni aspetto organizzativo. Anche quest'anno, ha dichiarato Castronovi, Chimambio ha svolto un lavoro straordinario riportando il decoro dopo il ferragosto. Purtroppo le scene a cui abbiamo assistito non sono state delle più edificanti ma non ci arrendiamo al degrado, anzi continueremo a contrastarlo confidando nel buonsenso e nella collaborazione dei cittadini virtuosi. Nonostante la carenza di personale dovuta al periodo feriale, alle norme anti-covid e ai relativi permessi lavorativi, ha commentato il presidente Mancarelli, abbiamo comunque assicurato un servizio di pulizia e raccolta dei rifiuti adeguato in tutto il territorio. Il notevole afflusso di turisti e visitatori ha richiesto un ulteriore sforzo ai nostri operatori che hanno collaborato con la cooperativa Kratos. A loro, conclude, va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto.